Mancano ormai pochi giorni al 79esimo anniversario dello sbarco alleato sulle coste locali con l'operazione ASCII, che aprì la strada all'avanzata delle truppe antitedesche. Si è riunito stamattina per la seconda volta il tavolo tecnico che sta organizzando i festeggiamenti in occasione del 79esimo anniversario dello sbarco degli americani sulla costa di Gela. All'incontro hanno partecipato il sindaco Lucio Greco, il vice sindaco Terenziano Di Stefano, il club service della città, il professor Nuccio Mulè e Alberto Lunetta, responsabile delle comunicazioni della base USA Sigonella collegata in videoconferenza. Abbiamo organizzato queste due date, giorno 9 e 10 luglio, per questa commemorazione sullo sbarco degli alleati. Partiremo giorno 9 a Ponte Tirillo, dove ci sarà presente la delegazione degli americani, poi passeremo al cimitero monumentale per ricordare i nostri carabinieri caduti in guerra, poi ci sarà anche un convegno presso la chiesetta di San Giovanni. Ci sono due giornate, giorno 9 e giorno 10, di pomeriggio presso Gela e Miniatura, dove c'era la possibilità di vedere anche degli oggetti che ricordano quel periodo. E poi giorno 10 invece andremo prima a Lungomare, di fronte alla Capitaneria di Porto, poi saliamo sul Viale Mediterraneo che già, come avrete avuto modo di vedere, già stiamo allestendo. e poi ci saranno due eventi importantissimi. Uno è l'annullo postale che verrà fatto presso l'ex dogano a Lungomare e poi subito dopo c'è una proiezione che ricorderà appunto i momenti storici dello sbarco. Dalle 16 alle 18 verrà aperto il parco tematico Gela e Miniatura alla cittadinanza per visitare, pensate, l'unico luogo aria espositiva dedicata allo sbarco del 10 luglio 1943. Il sindaco ha anche ricordato come quest'anno sia solo preludio dei festeggiamenti che si terranno nel 2023, in occasione dell'ottantesimo anniversario dell'operazione ASCII e che, come proposto dal consigliere comunale della Lega Emanuele Alabiso, in una mozione presentata lo scorso marzo, l'amministrazione comunale punta ad organizzare l'ottantesimo anniversario ad altissimo livello, anche con la presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.